Ciao, sono Alessandra e lavoro presso il Nucleo Manutentivo Lavori di Roma Tuscolana. Le qualità principali del mio mestiere sono la forza e la consapevolezza. Gli ostacoli che posso incontrare e soprattutto mi rivolgo alle donne, sono quello di imbattersi in un ambiente prettamente maschile. Ma non è detto che le donne non possano avere quel valore aggiunto e possano superare al meglio e possono essere più professionalizzate, più brave in qualsiasi mestiere. Se dovessi raccontare il mio lavoro ad un bambino, gli direi che svolgo mansioni di controllo di sicurezza e di manutenzione del binario e delle sue apparecchiature. Da piccola sì, mi sarebbe piaciuto fare la ballerina. Ho fatto parecchi anni di scuola di danza e anche a livello musicale ho preso lezioni di musica e suonavo anche il clarinetto nella banda del paese. Anche la musica è un hobby da me preferito. Tutti per uno, uno per tutti. Anche la musica è un hobby da me preferito. Grazie.